Gentili telespettatori, buona giornata. La Meloni è in giro per le televisioni, per ovviamente la propaganda a poche ore dalle elezioni europee e così nell'ultima apparizione in uno studio televisivo tira un bilancio sui suoi primi 20 mesi di governo e dice così, illustra orgogliosamente tutti i provvedimenti e prima cinque minuti e poi la trasmissione sempre di Bruno Vespa e poi sempre da Bruno Vespa porta a porta. La Premier respinge le accuse delle opposizioni sui mancati aiuti alla sanità pubblica, dice così, Le loro sono battaglie ideologiche, combattute sulla pelle dei cittadini. Io non aiuto il privato, aiuto i malati, dice la Meloni. Questo perché c'è stato un governo che si è occupato di questa materia e non mi pare sia stato fatto in passato, con la scusa che era competenza delle regioni. Quindi la Meloni dice con l'ultimo decreto fatto due giorni fa per diminuire la lista di attesa io aiuto i malati, in precedenza nessuno ha aiutato i malati. Non aiuto gli ospedali privati ma aiuto i malati, dice la Meloni. E dice, aggiunge, non è vero che abbiamo messo più fondi sulla sanità che rispetto al PIL non sono aumentati, ma questo accade perché il PIL ora cresce e quando c'erano loro calava. Poi 134 miliardi sono più di 125 e i cittadini lo capiscono. Allora, io vedevo dire che i cittadini una parte non avevano neanche capito, quando si parlava di code per la sanità, pensavano che erano le code per il medico di famiglia, quello dove vai a chiedere la ricetta o la cosa per mancare dal lavoro, come si chiama. Quindi, per quanto riguarda la diminuzione delle code nella sanità, c'era gente che non aveva neanche capito di che cosa si stesse parlando. Non si parla del medico di famiglia dove tu vai la mattina, ti fa la visita, il medico della mutua, come Alberto Sordi, il medico della mutua, dove tu vai lì, quello apre alle 11, c'è gente che aspetta dalle 7, quindi vai alle 7 del mattino, stai tre ore lì ad aspettare, più un'altra ora e mezza, poi viene il tuo turno, ti fa la ricetta, ti fa la cosa per il lavoro, la giustificazione, stai a casa tre giorni. Non è la fila dal medico della mutua, sono le file per le visite specialistiche negli ospedali. Quindi sul fatto che gli italiani abbiano capito le cose, insomma, insomma, insomma. In tanti, ve lo giuro, non hanno capito ancora che quando si parla di code nella sanità non stiamo parlando del medico di famiglia. Quando vi dico che ci sono code di un anno e mezzo, ma voi, non so, ragionate un po', avete mai fatto un anno e mezzo di coda per andare dal dottore a chiedere una ricetta? Un anno e mezzo. Uno mi dice, ma io aspetto 40 minuti. Eh, ma allora non ci siamo. Ma quali 40 minuti? Quello è il medico di famiglia, non 40 minuti per una visita specialistica. Quindi quando la Meloni dice, cos'è che ha detto, gli italiani, i cittadini lo capiscono. Insomma, non tutti capiscono quello di cui si parla, ma i politici sfruttano questo. I politici sanno che non tutti i cittadini capiscono quello di cui si sta realmente parlando. Quindi gli puoi raccontare quello che vuoi. Allora, torniamo sulla notizia. Quindi la Meloni dice, io aiuto i malati. Quelli di prima non l'hanno mai fatto. Io ho messo 134 miliardi sulla sanità. Sono più di 125. I cittadini lo capiscono. Allora, quello sulla sanità io ve l'ho spiegato tante volte. La Meloni ha messo più soldi sulla sanità? Sì. Ha tagliato sulla sanità, come dice la Schlein? No. Ha messo più soldi dei governi precedenti. Qual è il punto? Il punto è che i soldi messi in più non hanno coperto l'inflazione e non hanno coperto la percentuale sul PIL. Perché si dice che la sanità deve essere 6% sul PIL. Il PIL è la produzione annua di ricchezza in un paese. La spesa per la sanità deve essere quella percentuale. Naturalmente, se il PIL sale, tanto, tu devi metterci tanti più soldi. Se il PIL è quasi fermo, tu gli metti gli stessi soldi dell'anno precedente. In più c'è anche l'inflazione. Devi coprire le inflazioni. Quindi, la Meloni ha messo più soldi nella sanità? Sì. Ha tagliato la sanità, come dice la Schlein? No. Ma ha messo meno soldi di quelli che andavano messi. 134 miliardi non li ha mai messi nessuno. Ma non sono sufficienti a coprire i soldi dell'anno precedente. Cioè, l'anno precedente c'erano meno soldi, ma valevano di più per l'inflazione. L'avrò detto mille volte e continuiamo sempre sullo stesso punto. Sempre sullo stesso punto. La Schlein che dice che ha tagliato la sanità e la Meloni che risponde che nessuno ha mai messo soldi. Come li ho messi io. Ma la realtà è quella che vi ho detto io. Non ci sono tagli. Sì, ha messo più soldi, ma quei soldi messi in più non sono stati sufficienti a coprire l'inflazione e l'aumento del PIL. È chiaro una volta per tutte? No. Perché tanto domani la Schlein dirà che la Meloni ha tagliato la sanità e la Meloni dirà guarda i numeri, io ci ho messo più soldi di tutti gli altri. E il discorso si ferma lì. Ha tagliato, ho messo più soldi. Cosa credono gli elettori? Credono a quella che gli sta più simpatica. Quelli di sinistra diranno la Schlein ha ragione perché dice che ha tagliato. Quelli di destra diranno la Meloni ha ragione perché non ci ha messo mai nessuno così tanti soldi. E così le due tifoserie andranno avanti così. Quelli che avranno capito veramente quello che succede sulla sanità sono pochissimi. E poi aggiunge la Meloni si dice una cosa abbastanza ridicola perché gli stessi migranti se li portiamo in Italia sempre a carico dello Stato sono sempre a carico dello Stato. Il principio della legge Bossi-Fini quantomeno aggirando in un sistema diverso quindi poi la Meloni parla parla a porta a porta di altri argomenti ma il primo è sempre comunque quello della sanità. Ha tagliato? No, ci ho messo più soldi di tutti. E la Schlein va in televisione e al suo pubblico dice ha tagliato. La Meloni va in televisione e al suo pubblico dice mai così tanti soldi. Ma la verità è quella in mezzo che vi ho raccontato prima. E sul fatto tanto i cittadini lo capiscono le cose come vanno. Insomma a volte diciamo capiscono se glielo spieghi lo capiscono ma se continui a dire ha tagliato no, ci ho messo più soldi di tutti che cosa devono capire i cittadini se non glielo si spiega? Se nessuno glielo dice? Eh? Arrivederci a tutti e grazie.